Sono Mome, ristoratore di Firenze e se anche tu hai un'attività, è arrivato il momento di mettersi tutti insieme. Io il 15 gennaio apro e tu cosa farai? Sono Mattia, dal pub Halloween di Bologna. Anche noi apriamo. Sono Viaggio, del gruppo Leggino Margherita. Io apro. Ciao ragazzi, sono Umberto Carriera, da Pesaro e anche io il 15 gennaio aprirò i miei ristoranti. Io apro, dovete farlo anche voi. Ciao a tutti, sono Antonio, ristoratore di Sassuolo. Anch'io il 15 apro. In sicurezza, venite a sostenersi. Sono Stefano da Viareggio, anch'io apro. Sono Federico da Modena, anch'io apro. Sono Domenico da Viareggio e anch'io apro. La sveglia è suonata e noi ci stiamo alzando. E te? Vuoi rimanere là? A te la scelta. Noi sappiamo già cosa fare.